Oh sii! Dobbiamo festeggiare in modo eccezionale! Siete tutti pronti per il grande concerto di Natale? A quello penseremo più tardi! Ora facciamo un bel applauso a chi cattura i vostri sguardi! Ad Angela! Grazie, grazie. Allora, amici, stasera vi farò ascoltare la canzone di Natale che mia nonna mi cantava sempre quando ero piccola. Sapete, c'è solo una cosa che desidero per Natale. Del Natale ci sono cose che amo. I regali. Questo è sicuro. Anche il pischio. I bastoncini di zucchero. Bastoncini di zucchero? Ma ci sono anche cose che odio. Che cosa? Mirenne. Mirenne cammina lo sorbetto. Cammina lo sorbetto. Si mangia la carota. Oh, sì! Del bufanzo mio di neve. Scendi giù dal palco. Oh, no, perché c'è un incendio? Scendi, sei stonnata come una campana. No! Un disturbatore nel mio cloud. Farai meglio farti vedere prima che ti butti fuori. Mi dispiace, Angela. Questo mi fa star male. E allora perché fai il ballo del verme? Anche i vermi si sentono malissimo. Wow! 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 Su, Angela. Perché sei così triste? In fondo era solo un disturbatore. No, Tom. Era più di questo. Molto di più. Mi ha fatto tornare in mente un'altra occasione in cui mi interruppero. Renne cazzidella, mi mangiate le carote, mi mangiate le carote! Scendi giù dal palco. Scendi. Sei stonata come una campana. Chi farebbe una cosa simile? Chi interromperebbe una dolce piccola gattina che canta una bella canzone sul Natale? Allora, le porteranno giù a chiave? Vi siamo persone brave. Io ero sul palco. Non sono stato io, ma qualcun altro. Quindi questo significa che il disturbatore è uno di voi? Oh, è la mia nuova suoneria. Io sono meravigliato e sono dispiaciuto che qualcuno possa dare fastidio ad Angela. Non dovresti esserlo, considerando che il disturbatore sei... Tom! Ops, scusate. Cercando semplicemente su internet le parole Tom e disturbatore si scopre che tu, Tom, hai ricevuto non una, non due, ma tre punizioni al liceo per azioni di disturbo. E una di queste è stata proprio durante un concerto di Natale. Tom, eri un disturbatore. Come hai potuto? Erano altri tempi. Ero giovane, costantemente in cerca di attenzioni. Non smettevo mai di parlare. Ero un chiacchierone. Non riuscivo a stare zitto. Continuavo a parlare per ore, 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 ore. Tom! Il punto è che allora ero diverso. D'accordo? Io non interromperai mai, Angela. Vorrei poterti credere, ti giuro. Puoi farlo. Angela, aspetta! Devo trovare il vero disturbatore per riconquistare credibilità. Per fortuna so bene come svolgere un'indagine per risolvere un mistero grazie alla mia serie preferita, l'ispettore Segugio e l'agente Larry. È quella serie dove i personaggi ricalcano luoghi comuni inglesi per sembrare investigatori competenti. Elementare, abiccobio. Pur non avendo svolto delle approfondite indagini e nonostante indossi questo cappello che mi piace molto, sono arrivato alla conclusione e ne sono quasi sicuro che il disturbatore è Ben, se questo è davvero il tuo nome. Tom, hai idea di cosa stai dicendo? Soltanto io posso fare le domande qui. Sì, solo l'ispettore Segugio fa le domande. Allora Ben, è vero o non è vero? Che recentemente hai sviluppato un'applicazione che si chiama Disturbamatic. Ti abbiamo scoperto. Eh sì, questo è vero. Ma cosa serve quest'applicazione? Serve a disturbare. Ah ah, cioè ah ah, molto inglese. Perbacco. Non sono stato io, ho solo sviluppato quell'app per me stesso, per individuare chi disturba i miei spettacoli. Ecco, ora vi mostro. Perché i magneti vincono i concorsi di bellezza? Perché sono molto attraenti. Boo, le tue battute sono orribili. Boo, non fai ridere, sei penoso. Ginger, sei un disturbatore. Ops. Pensate che sia stato io a disturbare Angela. Sembra che ti piaccia disturbare. Non è vero, ispettore Segugio? Ginger, purtroppo è così. È talmente palese che sconcerta. Non sono stato io. Adesso ve lo proverò. Hank, rispondi alla mia domanda. Angela, tu sei sonnambulo, non è vero? Certo, ogni notte. E quando hai episodi di sonnambulismo, urli a chiunque passi vicino a te. Non è così. Ovviamente. E cosa ti è piaciuto di più dell'esibizione di Angela? Non lo so, dormivo. Oh, perbacco. Tutto questo è ridicolo. La tua indagine non ha dimostrato un bel niente. E tu sei l'unico che ha già disturbato uno spettacolo natalizio. Quindi per quanto mi riguarda, sei colpevole. No, per favore Angela, devi credermi. Non ti interromperai mai. Colpevole. Sicuramente Angela è straordinaria. Nella mia vita non ho mai conosciuto nessuna come lei. Ma se pensa che sono un disturbatore, non si innamorerà mai di... Pensate che io sia innamorato di Angela. Oh, andiamo. Molto bene. Allora, come stavamo... Siamo tutti stressati, ma ti ho promesso che troverò irresponsabile e ci riuscirò. Sapete? Quando l'ispettore Segugio è stressato, lui e l'agente Larry fanno sempre due cose. Prendere una tazza di tè e tornare sulla scena del crimine. Oh, è assolutamente squisito. Chiedo di vedere il filmato della videocamera di sicurezza delle prove di Angela. Oh, certo. Seguitemi. Ah, fermo. Ingrandisci l'immagine, per cortesia. Zoom e aumento di nitidezza. Procedi pure. Subito. Ah, ah. Hank, ho la sensazione di sapere chi è il nostro disturbatore. Magnifico. Ottimo lavoro, ispettore. E' attiva! Guardalo. Sembra proprio un corridore. Già, faccio un ballo diverso per ogni umore. Adesso sono sorpreso e ho anche un po' fame. Ho voluto riunirvi tutti qui, sulla scena del crimine, perché finalmente ho scoperto non solo chi è stato a interrompere Angela stasera, ma anche chi la disturbò quando era all'asilo durante la recita di Natale. Perché dovete sapere che i due disturbatori in questione sono di fatta la stessa persona. Ups, scusate. Metto la vibrazione. E queste prelibatezze che scommetto chiamate biscotti al cioccolato lo proveranno. Aspettate, è quello chi è? Fermo dove sei, non ti muovere. Da cordon, non mi muovo. Ah, ah. Lo sapevo. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi il disturbatore. Babbo Natale? Oh, oh, confesso, sono colpevole. Lo sapevo, cioè non lo sapevo, ma lo immaginavo. Su, serio? Babbo Natale, perché hai disturbato Angela? Avete mai ascoltato con attenzione le parole della sua canzone di Natale? Si mangia una carota con cui ha fatto il naso. Un bacio mio di... D'accordo, ho capito. In effetti, fuori dal contesto dello spettacolo, quelle parole potrebbero sembrare un po' denigranti. Ah, mi dispiace. Scusa, Tom, ma come sei arrivato a questa conclusione? Allora, pensaci bene. Le porte erano chiuse a chiave, quindi il disturbatore ha trovato un'alternativa per entrare. Il camino. È vero, lì c'è un camino. Esatto, non agitarti, amico. Ma come spieghi la voce robotica? Intendi questa voce? Ah, è un piccolo regalo che mi hanno fatto i folletti. Oh, mi dispiace di averti interrotto, Angela. La cosa importante è che finalmente abbiamo risolto il mistero. E adesso sappiamo con certezza che io non farei mai, 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 mai e poi mai qualcosa che possa ferire Angela. Mai. Bene. Angela, pensi di fare ancora il tuo concerto di Natale? Questo è un Natale strano, con Babbo Natale anche ho litigato per un po'. Allora, è la vigilia di Natale, le dirai quello che pensi di lei? Cosa? Io penso che sia onesta, gentile e che si comporti in modo corretto. Tom, sono un Babbo Natale. Io so quando dormi, io so quando sei sveglio e so quando dici le bugie. No, io non dico bugie, io no. Angela, ciao! Sono così felice di potermi esibire di nuovo e per questo devo ringraziare te, Tom. Ho qui un piccolo pensierino. Davvero? Non era necessario. Sì, questo riassume tutto quello che rappresenti per me. Devo andare! Oh, semplicemente amici per sempre. Questo biglietto mi ha un po' deluso. Dateci dentro, gente! Libertà! Libertà! Ah! 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 Grazie per la visione!